Ragazzi, here we go soon, ci siamo presto ma si farà perché il giocatore ha rifiutato tutte le offerte Il Monaco si è dovuto quasi calare le braghe per Fofanà perché ci sono state delle offerte anche superiori al Milan Per quanto riguarda incassare il club francese ma il giocatore voleva solo il Milan e col Milan si farà Perché ripeto, è uscito il tweet su X romano, here we go soon per Fofanà Il Milan con l'ultimo a fondo sembra aver convinto il Monaco 20 milioni più 5 di bonus, si sta solamente definendo questi bonus perché il Monaco li vorrebbe tutti facili Questi bonus, mentre invece il Milan ha messo 2 facili e 3 difficili o viceversa 3 facili e 2 difficili Comunque alla fine per una cifra intorno ai 25 milioni di euro l'affare si farà perché il giocatore ha spinto e voleva solo il Milan Ragazzi, ripeto, da altre parti sono arrivati anche delle offerte migliori, c'era anche il Chociva 30-35 milioni per Fofanà Però la volontà del giocatore ha fatto la differenza, un po' come la vicenda su Le Che noi avevamo l'Ester che offriva di più però su Le voleva solo la Roma e alla fine è venuto la città da Roma Perché poi alla fine i giocatori e i procuratori al giorno d'oggi nel mondo del calcio comandano E Fofanà ha fatto di tutto, ripeto, per andare al Milan E quindi ragazzi, Yusuf e Fofanà sarà un nuovo giocatore del Milan E' un bel centrocampista ragazzi, un bel centrocampista, fermerà un quadriennale Quindi 4 anni a 3 milioni di euro netti a stagione Quindi un buono stipendio per Fofanà Un giocatore esplicitamente voluto da Fonseca E ragazzi attenzione adesso al centrocampo del Milan Perché se ci buttiamo dentro Fofanà Se pensiamo che comunque loro hanno già l'off to cheek e reinders Se vogliamo mettiamoci anche Ben Nasser dentro tutta questa bella melma Ragazzi Fofanà è un altro centrocampista che comunque Può spostare gli equilibri, bello fisico, possente 25 anni, comunque anche abbastanza giovane E' del 99, farà gli anni 26 a gennaio Quindi c'è ancora tempo E' alto 1,85 Quindi nella norma francese A livello di mercato da quello che vedo è 30 milioni di euro Quindi il Milan lo paga 20 più 5 di bonus Quindi anche a livello diciamo economico ha fatto abbastanza un affare Ha vinto comunque una coppa francese Nella sua palmarès E' vero che comunque lui è un centrocampista centrale Come ruolo naturale quindi una mezzala Ma all'occorrenza ti può fare il mediano o l'esterno destro Perché se sei un centrocampista di destra Quindi può fare l'esterno destro Quindi è un giocatore tra virgolette abbastanza duttile Che può fare più ruoli Da quando nel mondo del calcio Fofanà Ha collezionato esattamente 221 presenze Facendo 12 gol e 16 assist Con un totale di 17.167 minuti giocati E' un centrocampista che ragazzi Non bisogna tanto vedere i gol e gli assist che fa Ma secondo me proprio come posso dire E' un centrocampista che E' un po' la turam Secondo me E' un centrocampista di rottura Quella mezzala che comunque ti fa picchiare Che ti recupera tantissimi palloni E che comunque manca se vogliamo un po' al Milan Perché poi alla fine il Milan ha tanti centrocampisti di qualità Però poi un recupero da palloni Non è poi così tanto Diciamo tra virgolette Non ha dei giocatori abbastanza abbondanti A quel punto di vista E' Ha fatto 108 partite da centrocampista centrale Facendo 5 gol e 8 assist Ha fatto 81 però partite da mediano Con 5 gol e 8 assist Quindi il centrocampista centrale e il mediano Sono i suoi ruoli preferiti Quindi li può fare Può fare sia mediano che centrocampista centrale Questa è un'ottima notizia per il Milan Poi ha fatto solamente 7 partite da centrocampista di destra Facendo 0 gol e 0 assist E ha fatto anche 4 partite da tre quartista Facendo 1 gol e 0 assist E ha fatto anche 2 partite anche da centrocampista di sinistra Quindi esterno sinistro con 0 gol e 0 assist Ma perché? Perché il Milan ha voluto Fofanà Vediamo un po' la stagione di Fofanà dell'anno scorso E vediamo il motivo Vediamo un po' come ha giocato e tutto Io non seguo la Ligue 1 francese Devo essere sincero Quindi il giocatore lo conosco Perché comunque l'ho visto giocare qualche volta Ma diciamo che non sono Non sono Un esperto di campionato francese Ha fatto l'anno scorso 32 partite in Ligue 1 E tre partite in Coupe de France Quindi ha fatto in totale 35 partite Facendo 4 gol e 4 assist Con un totale di minuti giocati 2973 Tre ammunizioni E ragazzi paradossalmente Da quello che vedo qua L'anno scorso Fofanà E' stato impiegato più da mediano Che da centrale Nonostante il centrocampista centrale Sia al suo ruolo naturale Perché qua ha fatto 20 presenze L'anno scorso da mediano Facendo 4 gol e 4 assist Poi ha giocato 14 partite Da 100 campista centrale l'anno scorso Facendo 0 gol e 0 assist Quindi Attenzione che Fofanà forse è stato Quasi quasi Si può dire Rimodernizzato mediano Adesso forse tra un po' E' più il suo ruolo naturale Il mediano Che c'è il centro Che pista centrale E potrebbe essere Chi gioca lì in quel ruolo C'è Ben Nasser Ben Nasser Ci sono state qualche voci Di calcio mercato Che lo davano anche quasi lontano Dallo stesso Milan Quindi chissà Che non vada via Ben Nasser Per fare entrare Fofanà Non lo so Non lo so Non lo so Fatto sta che comunque Il Milan piazza Un'altra Un altro comunque Giocatore importante Si sta preparando Per questo campionato E potrebbe essere Una di quelle a vincere Lo scudetto Cioè tra virgolette Vincerse come no Perché ce n'è una più forte Che poi vabbè Vedete la mia prediction Che uscirà comunque sempre oggi Magari più tardi Verso pomeriggio Però comunque uscirà Devo anche vedere Anche le notizie di mercato Perché ragazzi Cioè una tizia di mercato Le va a precedenza a quella Però il Milan Sicuramente Nelle top 4 Anche se c'è Fonseca Che è un allenatore Che non mi convince tanto Per me Il mio dubbio È proprio Fonseca Per il resto È una squadra È una squadra già forte Perché Il mercato Il grande mercato del Milan È stato fatto l'anno scorso Con quei tantissimi Con quei tantissimi Giocatori presi Quest'anno Hanno puntellato Qualche Qualche cosa Però Ecco Ok Attenzione Attenzione anche al Milan E quindi è fatta La volontà del giocatore È stata È stata chiara Fino all'inizio Voleva solo il Milan Alla fine comunque Ha vinto il giocatore Il suo procuratore Giustamente Ci sta ragazzi Alla fine Il Milan Vai comunque al Milan Il Milan Per storia È una squadra Che si chiama Non può rifiutare Staticamente parlando È una delle squadre Più vincente In Europa Ed è normale Che comunque il giocatore Volesse andare Volesse andare lì Per il resto Ragazzi Ripeto Classe 99 25 anni Sei nell'età Quella giovane E comunque Non più adolescente Cioè sei giovane Ma inizi ad essere Anche maturo Quindi hai delle responsabilità In più in campo Da dover dare E quindi ripetiamo Il we go soon Ci siamo presto Clessidre Di Fabrizio Romano Yusuf Fofana Sarà un nuovo giocatore Del Milan Le cifre 20 milioni Più 5 di bonus Vediamo poi come saranno Questi 5 di bonus Se sono facili o non facili Comunque la cifra È intorno È sui 25 milioni Contratto Quadriennale 4 anni A 3 milioni A stagione Quindi queste sono le cifre E niente ragazzi Un acquisto Che comunque Al centro campo Ci sta Che ha proprio Per il Milan Lo vedremo Lo vedremo Lo valuteremo In campo Se vi è piaciuto Anche in questo caso Lasciate un bel like Commentate E fate sempre un po' voi Cose prese D'appunto Dell'acquisto Di Yusuf Fofana Al Milan E soprattutto ragazzi Anche se vuoi piacere L'iscrizione al canale Che è Fornitoli Non costa nulla E per me Vogliare un supporto Basta fare un clic Su iscriviti E siete iscritti E fare anche il suo cuore Con il video Con i vostri amici Facciamo anche loro E attivate L'accampione Notifiche Così non Perdete Più ci hanno In descrizione Anche il link Le parti più di channel E link Anche degli altri Social Chiediamo anche Tutto Bella Ah La Juve Quando si muove Giunto lì Dove sei Io sulla Juve Può essere C'era acquisto Confermato Ci sarà un video Sfogo Lasciamo stare Bella Sfogo